50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me 50.000 pagine gettanti al vento perché è un tenue ricordo il mio volto grazie mille per aver visitato il canale ufficiale di the voice of italy su youtube prima di andare via però clicca qui ed iscriviti per continuare a vedere questo video e tantissimi altri mi raccomando clicca sul sito the voice of italy.it ciao 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 ciao